posti letto completamente esauriti e così da ieri all'ospedale dell'angelo di mestre sono stati sospesi tutti i ricoveri programmati interventi chirurgici rinviati tranne quelli urgenti ed oncologici è una vera e propria emergenza quella che sta interessando in queste ore il nosocomio di zelarino ragione della crisi il boom di accessi all'ospedale con conseguente ricovero a causa di complicanze dell'influenza problemi respiratori polmonari cardiaci anche molto gravi che stanno interessando soprattutto la popolazione anziana ma anche pazienti in età pediatrica un picco dell'influenza che era stato annunciato e che puntualmente è arrivato con una virulenza superiore alle aspettative mettendo in difficoltà il sistema ospedaliero la direzione dell'ospedale ha quindi deciso di sospendere fino a giovedì 19 tutti i ricoveri programmati invitando i vertici dei reparti ad accelerare per quanto possibile le procedure di dimissione della situazione sono state informate la prefettura la centrale operativa del 118 e le direzioni mediche degli altri ospedali della provincia di venezia e la situazione è problematica anche nell'ulse 4 del veneto orientale anche qui gli interventi chirurgici non urgenti sono stati rinviati per lasciare i letti a disposizione dei numerosi pazienti che necessitano di ricovero per le complicazioni soprattutto respiratorie dell'influenza l'appello ai cittadini a quello di rivolgersi al pronto soccorso ai servizi di emergenza urgenza nei casi di effettiva necessità l'appello ai cittadini a quello di rivolgersi al pronto soccorso ai cittadini a l'appello ai cittadini a quello di rivolgersi al pronto soccorso ai cittadini a